Sull'autostrada 3 Napoli-Salerno una persona alla guida di una Renault Scenic ha travolto un giovane centauro di anni 33 che era accaduto dal suo motociclo. L'urto è stato violentissimo ma il responsabile dell'incidente non si è fermato per vedere cosa fosse accaduto e si è dato alla fuga. L'uomo è stato soccorso da personale sanitario intervenuto sul posto e durante il trasporto in ospedale è deceduto. Gli uomini della sottosezione della polizia stradale di Angri, dipendente della sezione di Salerno, si sono messi sulle tracce del pirata della strada e lo hanno individuato. Si tratta di un uomo di 43 anni di Napoli. L'autovettura è stata sottaposta al sequestro. Il PM di turno è disposto alla misura degli arresti domiciliari.